Salve, sono Giorgio Bensa, diventare project manager si può. In oltre 20 anni di esperienza, posso assicurarvi che utilizzando semplici strumenti è possibile portare a termine gli obiettivi, conseguendo dei risultati prefissati, facendo crescere il team e se stessi. Questa è una cosa che mi dà una grande soddisfazione e adesso da quando noi facciamo corsi, facciamo consulenze, è un piacere vedere come anche altri utilizzano questi strumenti e possono fare bene per la propria organizzazione, per la propria azienda, per il nostro territorio. Noi facciamo dei corsi spiegando in maniera semplice gli strumenti, utilizzando da subito degli esercizi per provarli in maniera hands-on, con post-it, con mapementali, con cartelloni e questo qui è estremamente efficace, vediamo che già dall'indomani si possono applicare in azienda queste tecniche e questo qui mi dà grandi soddisfazioni. Mi hanno detto, Giorgio grazie per quello che tu mi hai insegnato, che ho potuto utilizzare in azienda da subito, gestire gli stakeholder, prevenire i rischi, comunicando meglio. Ecco, questa è una cosa che mi dà soddisfazione e a noi di BPM ci piace far questo, con passione, professionalità e onestà. Ci vediamo se ti va.